Oggi abbiamo la possibilità di offrire una scelta in più che non c'era l'anno scorso. Questo ovviamente ci premia, quindi non hanno più bisogno di andare in giro a cercare altre realtà, possono tranquillamente venire e ritornare al vulcano. Abbiamo un più 30% di visitatori, premiati ovviamente dal fatto che in quest'anno il vulcano finalmente ha rimesso in moto tutta una serie di attività. Abbiamo avuto più di 20 nuove aperture, è partito un progetto di restyling, sono partiti investimenti, abbiamo creato occupazione, abbiamo creato movimento, quindi la struttura sta ritornando a essere viva ed un nuovo punto di riferimento in Campania. Un percorso fantastico con più di un milione di luci, con storie, racconti, personaggi di fantasia e non, che si completerà a fine ottobre, e quindi finalmente lo apriremo al pubblico con un qualcosa di assolutamente unico nel panorama nazionale e in nessun altro centro commerciale, in nessun'altra struttura esiste un'esperienza del genere. Siamo riusciti ad azzerare una situazione che abbiamo ereditato, dove parcheggiare l'auto da noi era un problema. Oggi è un'esperienza assolutamente normale, abbiamo totalmente eliminato tutti i problemi di furto e danneggiamento che ci sono stati negli ultimi anni.